E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Io sono Nick e oggi siamo su Minecraft per la prima volta. Come potete vedere qua dietro c'è la mia macchina che ho appena parcheggiato. Infatti mi sono dovuto trasferire in questo piccolo villaggio, cioè anche perché adesso lavorerò su questa torretta di sorveglianza della foresta. Perché? Anche perché voglio girare un documentario sulla misteriosa leggenda della strega di Claire. La strega di Claire, come saprete, è una strega che vive qua in giro per queste foreste. E negli anni del settecento molti bambini sono stati attirati all'interno della foresta a causa di questa misteriosa strega. E infatti noi adesso andremo a intervistare quel piccolo villaggio. Quindi adesso andremo, ok? Ed eccoci qua, siamo arrivati nel paese, cioè nel villaggio. Allora, volevo cercare... eccoci... Scusi signore, signore scusi. Mi può parlare della misterio... cioè sto girando un documentario, vorrei intervistarla su questa misteriosa... sulla misteriosa leggenda della... della... della strega di Claire. Oh no no no, io non voglio parlare di questa strega. Io ho già... ho già avuto troppi problemi. Per favore se ne vada. Ok ok, non sia così scortese, eh. Mamma mia, cioè... Ecco, ti sta bene, eh, stronzo? Cioè, io vengo qua e non mi... e mi... e mi... e mi dice così, ma me neanche... ma neanche il piacere, ma vaffanbrodo, cioè... Io mi sono... ho fatto circa mille miglia per venire fin qua e mi trattano così, ma io... cioè, ma io... oddio... Ehi, ma questo papagallo è molto simile a quello che ha... che ha sbrizer. Vabbè. Bom. Ah, eh... Ti lascio in pace a te, non... non ti faccio nessun intervisto, non ti voglio chiedere niente. Qua non c'è nessuno. Vabbè, tanto. Bom, sembra che siano molto scortesi, non c'è neanche quasi nessuno qua. Strano. Bom, vabbè, io direi di tornare nella... nella nostra... Cioè, direi di andare a controllare la nostra torretta, cavolo, e poi... Accidenti sta anche venendo buio, quindi devo fare anche in fretta. E per fortuna che ho... che è stata costruita qua vicino, per fortuna, eh. Se no, come facevo? Eh, ok, la mia macchina l'ho chiusa, meno mai... No, perché la mia è decapottabile, non voglio che si bagni, meno mai che ho chiuso il tettuccio, per fortuna. Ok, quindi... Allora, si... ah, si sa per di qua, perfetto. Ah, e la botola è già... che strano. Non so. Bom, vabbè. Eccoci qua, si entra... Oh, vediamo, allora. Lì c'è un letto, uno scrivano, una libreria, un quadro con un altro quadro all'interno e con una torcia all'interno. Ok, ah, c'è anche... c'è anche il balcone, perfetto. Quindi, sì. Perfetto. Perché diamine c'è un lama che sta su quel balcone. C'è una miniera abbandonata lì dentro. C'è una miniera... c'è una vecchia miniera. Infatti, dicono... Oh, senti... Eh, quello lì deve essere la famosa miniera 01. Praticamente l'hanno chiuso per via di una strana infestazione. Non so che cosa è successo. Milioni di... milioni di... Cioè, cento minatori dentro sono morti. Non so perché, ma adesso andremo a scoprirlo. Ok. Che cosa succede? Ok. Chiudiamo, andiamo giù. Bom. E dopo andiamo a dormire. Anche se è notte, sì. Dovrei andare a dormire, forse, ma... Però dai. L'esplorazione di notte mi piace di più. Ok. Vediamo... C'è un cartello. Miniera abbandonata. Pericolo. Ah, ragazzi, ecco... Oddio, no, oh cavolo, no, ops. Ho appena distrutto la recensione. Vabbè, le costruisco dopo. Vabbè. Accidenti. Eh, vabbè, colpa mia. Miniera 01. Sì, avevo proprio ragione. La madonna è troppo buio. Quindi ci servirà delle torce. Ok, vediamo un po'. Ok, non c'è nessuno. Accendiamo una torcia. Oh, oh, oh my, oh mio Dio. Via, 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 via. Chi cazzo è quello? Via, 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 via. Ragazzi, ma avete visto chi era? Cioè, io non l'ho manco visto. Mamma mia. Cavolo. Ma chi diamine era quello? Mio Dio. Oh, cavolo. Ragazzi. No ma che spegni 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 Ragazzi ma quella era la strega di Claire Ragazzi ma c'è questo Mi inquieta molto Mamma mia C'è Ragazzi Io maledetto sti slag Meglio tornare subito a dormire C'è uno zoo porca vacca ma quante cose ci sono qua Spaventose devo andare subito Dentro me ne torno dentro Vaffan bene a tutti E sta anche piovendo Via 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 andiamo dentro No non cadere Dentro Mamma mia Cioè ma allora la leggenda era vera Ma chi era quello Ma chi era Eh Non ci pensiamo E il let è troppo distante Il let è troppo Com'è possibile Ragazzi ma chi era Mamma mia Ho preso una paura Ok Dormiamo adesso Oh Bella nottata Succede qualcosa Là fuori No qua non c'è niente Andiamo a vedere di qua Ma che diamine È quello che diamine è Andiamo a controllare No perché non si sa mai Non si sa mai che cosa potrebbe essere Non lo so ragazzi Qualcosa mi dice che non è niente di buono Dov'era Era da quella parte Mamma mia ragazzi Oh cavolo Ma che cazzo Ma Ma è una figura Stic Ma che chiamine Tutta in legno Che cavolo Avrebbe dovuta costruire Chi è Ho sentito un brutto rumore Vabbè Mamma mia Cioè ma ragazzi Sta cosa mi sta terrorizzando Ma molto Cioè ma chi cavolo Sta di notte Qualcuno ha costruito questo Mamma mia Meglio andarsene subito via Devo andarmene via Devo andarmene via Devo andarmene via Accidenti Maledizione Ragazzi Non riesco più a entrare nella macchina Qualcuno Non ci sono le serrature Ragazzi Cioè io avevo messo le serrature Alla macchina E non ci sono più Qualcuno No eh No 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 Porca vacca È ancora lì Sì è ancora lì Bom 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 No 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 Via 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 Cavolo ragazzi No 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 Che diamine è quello Ragazzi non l'avevo notato prima C'è un portale Una specie di portale con Aspetta ragazzi Cerchiamo di non cadere dentro questo burrone C'è un Con un cartello Che diamine Significa Dimensione paranormale Oh mio dio Vabbè io ci entro Vabbè io ci entro Vabbè io ci entro C'è un portale con